Se non l'avete ancora fatto, potete aprire le vostre Bibbie a Romani 6. O come dice qualcuno, accendete le vostre Bibbie a Romani 6. Una volta si sentivano sfogliare molte più Bibbie. Adesso mi rendo conto che nel mondo dei tablet e dei cellulari spesso non avviene così. Tanto per cambiare, il capitolo 6 comincia con un dunque, il che significa che dobbiamo fare un passo indietro a quello che abbiamo visto la settimana scorsa e siccome è l'inizio di una nuova serie, come spesso avviene, leggeremo questo capitolo per intero, quindi mettete il cinto di sicurezza che stiamo per fare un bellissimo volo insieme nella parola di Dio. Cominceremo al versetto 20, perché la domanda del capitolo 6, versetto 1, è anche in parte una risposta a quello che dice nel versetto 20. Leggiamo Romani 5.20 fino alla fine del 6. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati seppolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo, risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo totalmente uniti a Lui in una morte simile alla Sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla Sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? No, di certo! Non sapete voi che vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Ma sia ringraziato Dio che eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato e siete diventati servi della giustizia. Parla la maniera degli uomini a causa della vostra debolezza, della vostra carne, poiché come già prestassi le vostre membra al servizio dell'impurità e dell'inquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra al servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ok. So che era un po' lungo, ma ne valsa la pena per avere un quadro generale, come vedremo, di tutto questo capitolo che studieremo insieme. Ma qual è la prima domanda che Paolo fa con cui inizia tutto questo discorso? Versetto 1. Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? Voglio farvi guardare un attimo questo muro. Non è un muro molto bello, è un po' sporco, però c'è un'affermazione molto, anzi, delle informazioni molto importanti. Vorrei sottolineare i due che sono insieme, le uniche due che voi vedete. Sola grazia, sola fide. Sapete, una delle accuse della Chiesa romana verso chi come noi afferma che la salvezza è solo per grazia è questa. Se la salvezza non dipendesse dalle opere, le persone farebbero quello che vorrebbero. Qualcuno ve l'ha mai detto questo? La salvezza non può essere per grazia perché sennò le persone fanno quello che gli pare. Infatti tanto rifiutavano questo concetto che abbiamo studiato proprio in Romani 5 e 6 che affermarono nel Concilio di Trento che divende proprio la legge della Chiesa romana se qualcuno afferma che l'empio è giustificato dalla sola fede così da intendere che non si richiede nient'altro con cui cooperare al conseguimento della grazia e della giustificazione sia anatema, sia maledetto. Se noi guardiamo Romani e parliamo della grazia forse qualcuno potrebbe proprio pensare questo. Certo, è comodo che non devo fare niente per essere salvato. Diventa quasi, come direbbe qualcuno, un'assicurazione contro il fuoco credere in Gesù. E se diciamo la verità conosciamo tutti delle persone che hanno questa conoscenza limitata del Vangelo e della grazia. Mi ricordo a 15 anni la nostra famiglia siamo andati in America per un anno e sapete c'è un po' la fama che in America ci sono molte chiese evangeliche molte chiese battiste più di qua sicuramente e mi ricordo quell'anno frequentai proprio la seconda superiore in una scuola americana e ho visto tanti ragazzi che vivevano una vita molto diciamo del mondo e poi lo shock di scoprire che andavano in chiesa con me. Com'è possibile? Da una parte vivi una vita poi vai in chiesa e fai un'altra vita. E se tu vai a chiedere a una di queste persone come fai a dire che tu sei credente? Ti dicono da bambino ho accettato Gesù nel mio cuore quindi so che posso fare quello che voglio. È una cosa purtroppo molto comune. e non importa quale evidenza hanno di una vita cambiata o non hanno di una vita cambiata la risposta è sempre la stessa sì ho pregato e quindi sono salvato. Il pastore e martire Dietrich Bonhoeffer qualcuno di voi forse ha letto delle sue cose definisce questo approccio alla grazia una grazia a buon mercato. una grazia molto economica una grazia di qualità scadente e lui definisce così la grazia a buon mercato e dice nascondere il costo del discepolato dalle persone. Infatti dopo tutto Paolo ha detto dove il peccato abbondato la grazia è sovrabbondata. Tutti voi sapete meglio di questo perché la settimana scorsa il pastore Daniel ci ha portato a Luca 9 dove ci ha letto se uno vuole venire dietro a me rinunci a se stesso prenda ogni giorno la sua croce e mi segua perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Ma la domanda continua nei secoli rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi oppure per dirla in parole mie se il peccato ha portato alla grazia non è meglio peccare di più per avere più grazia? Qual è la risposta di Paolo? Tre parole no di nelle vostre Bibbie insieme no di certo no di certo assolutamente no non è questo lo scopo della grazia nonostante dice la legge faccia abbondare il peccato e quindi la grazia noi non rimaniamo nel peccato così per le prossime settimane so che è un'introduzione un po' più lunga del solito ma dobbiamo capire come quello che vedremo oggi rientra in tutto il capitolo vedremo nelle prossime settimane quattro dimostrazioni per usare le parole che mi ha suggerito Paolo che sta anche lui studiando i romani che la grazia trionfa sul peccato quindi oggi vedremo come la grazia trionfa sul peccato perché siamo uniti a Cristo in particolare vedremo l'immagine del battesimo poi la settimana prossima Dio volendo vedremo come abbiamo nuova vita in Cristo per grazia romani 6 da 8 a 14 poi vedremo i romani 6 15 a 18 non vi preoccupate di non segnare tutto perché tanto ci arriveremo vedremo come siamo sottomessi a Cristo per grazia infine alla fine di romani 19 23 vedremo come siamo santificati in Cristo per mezzare la grazia ma oggi vedremo l'unione vedremo 5 certezze della nostra unione con Cristo versetto 1 ancora dice che diremo dunque rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi questa è una domanda che tipo di domanda è una domanda retorica cos'è una domanda retorica bambini avete studiato le domande retoriche a scuola sicuramente le vostre insegnanti le usano spesso quando tu fai una domanda e tutti sanno già la risposta è vero ti ho chiesto di pulire la stanza o l'insegnante ti ho dato quel compito sì maestra è una domanda retorica la risposta di Paolo è chiara no di certo non gli basta questa domanda ne fa un'altra ancora più retorica dice noi che siamo morti al peccato come vivremmo ancora in esso se state seguendo negli appunti o volete prendere i vostri appunti primo punto stamattina la prima certezza è questa se siamo uniti a Cristo siamo anche morti a che cosa al peccato esatto bravi la persona più triste nel mondo non è un non credente sapete la persona più triste nel mondo è un credente che non ubbidisce a Dio mi ha fatto pensare forse avete sentito delle storie di questo e sono andato sono stato sorpreso quando ho fatto una ricerca su internet che esistono molti più casi di questo di persone che vivono o hanno vissuto con un cadavere in casa avete mai sentito di questo? ho letto di una storia di quattro adulti con dei problemi mentali che avevano la madre morta ancora sul letto dopo due anni immaginate la puzza immaginatevi il marciume quando le persone chiamavano dove la mamma? eh sta riposando quando noi come credenti vogliamo vivere con il peccato facciamo la stessa cosa viviamo col marcio viviamo con la morte quando noi siamo vivi una persona che afferma di essere un seguace di Cristo e vive tranquillamente nel peccato puzza di marcio Paolo dice noi che siamo morti al peccato come vivremo ancora in esso? sta dicendo che chi è morto al peccato non può vivere in esso non può continuare a vivere come viveva prima il credente stona con il mondo perché non riesce a convivere più con il peccato alcuni di voi siete credenti da poco e forse cercate di continuare a stare con gli amici di prima ed è importante stare con quegli amici ma è difficile perché c'è qualcosa in noi che stona come un pesce che ormai è fuor d'acqua come un animale in gabbia qualcuno di voi forse dirà ma io pecco ancora certo pecchiamo tutti ancora lotteremo ancora con il peccato fino alla fine di questa vita ma non siamo più schiavi del peccato è questo che Paolo ci sta dicendo stamattina abbiamo abbiamo veramente dice la parola di Dio il libero arbitrio ora quando siamo in Cristo chi è morto al peccato non può più vivere in esso potremmo dirlo anche così o siamo morti al peccato se state seguendo nei vostri appunti o siamo ancora morti nei nostri peccati non puoi vivere una cristianità che è una via di mezzo o sei morto al peccato o sei ancora morto nei peccati infine l'ultima osservazione che vorrei fare di questi brevi versetti sono queste che la grazia abbonda nonostante il nostro peccato non è che Dio ha bisogno del nostro peccato per mostrare la sua grazia lui mostra la sua grazia nonostante il nostro peccato non grazie al nostro peccato questa è la prima domanda andiamo avanti abbiamo una seconda domanda ancora più retorica se prima abbiamo visto che siamo morti al peccato questo ci spiega perché perché siamo morti in Cristo guardate versetto 3 o ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte non so voi ma mi sono mi sono chiesto che c'entra il battesimo qua sta dicendo che noi siamo salvati dal battesimo forse dovremmo capire cos'è il battesimo quindi ho guardato non ho visto nessuno studioso che dice qui sta parlando del battesimo spirituale sta parlando del battesimo fisico ma adesso vedremo il collegamento che Paolo fa cos'è il battesimo se non è un'identificazione mostra la nostra unione con Cristo quando molti di voi siete battezzati in quella vasca voi avete detto al mondo che io sono in Cristo come vedremo molto chiaramente stamattina quindi il secondo punto stamattina è che se siamo uniti a Cristo è perché siamo morti in Cristo prima abbiamo visto morti al peccato morti in Cristo dice qua versetto 3 quando Cristo è morto noi siamo morti con lui ecco perché usa il battesimo il battesimo è un'illustrazione più chiara che c'è di questo fatto siamo stati dice qua battezzati nella sua morte ma dice una cosa particolare molto interessante dice tutti battezzati forse mi chiederà ma ci sono credenti che non sono battezzati il fatto è questo che Paolo presume che se tu ti converti a Cristo ti battezzi ti fai battezzare per Paolo non esiste una terza categoria di credenti che non vogliono battezzarsi ai tempi di Paolo sapete esisteva solo un tipo di battesimo un battesimo per immersione infatti la parola greca battizzo da cui abbiamo la parola battesimo significa semplicemente immersione possiamo chiederci perché hanno non hanno usato la parola immersione hanno inventato una parola non sono qui per discutere questi questi punti storici ma battesimo per loro era immersione il battesimo è talmente collegato dice Paolo alla salvezza che Paolo usa il battesimo per parlare della salvezza di una cosa completa di una cosa piena di una cosa al 100% quando un bambino viene spruzzato o forse con la mano gli mette un po' di acqua sulla testa non ti dà questa immagine di una cosa totale una cosa completa di una morte e sepoltura e risurrezione come vedremo oggi il battesimo rappresenta visibilmente la nostra nuova nascita in Cristo ok c'è una seconda cosa di questo versetto 3 non soltanto siamo stati battezzati nella sua morte dice che siamo nati di nuovo per mezzo della sua morte pure il battesimo rappresenta la nuova nascita quando siamo battezzati affermiamo che la nostra nuova identità è in Cristo siamo persone nuove siamo vite nuove siamo vite cambiate la sua morte la morte di Gesù diventa la nostra morte ci identifichiamo con la sua morte non possiamo ignorare questa grande certezza che se siamo figli di Dio siamo battezzati dice qua nella morte di Cristo e questo ci porta anche ad avere vittoria sul peccato come vedremo oggi arriviamo alla terza certezza guardate versetto 4 siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre così anche noi camminassimo in novità di vita il terzo punto stamattina la terza certezza è questa che se siamo uniti a Cristo dice siamo stati risuscitati a una nuova vita con Cristo dice qua siamo stati sepolti con Cristo mi viene in mente Colossesi 2 12 dove parla anche di questo dice siete stati con lui sepolti nel battesimo nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti quando voi vedete quella vasca piena è una persona va sotto l'acqua quell'andare sotto l'acqua che cosa vuol dire quale parola vi viene in mente la parola sepoltura quella persona è morta si identifica con la morte il fatto che Gesù è rimasto nella tomba per tre giorni così noi seguaci di Cristo diciamo anche noi con Cristo i nostri peccati sono rimasti sotto terra con lui il nostro salvatore siamo stati sepolti in Cristo la sepoltura è chiaro segno della morte un conto è dire una persona è morta ma non si dice morte si dice morti e sepolti perché la sepoltura ti fa capire quella persona è veramente morta penso che uno dei terrori più grandi dovrebbe essere una persona che è viva che viene sepolta ma la sepoltura rappresenta la morte rappresenta che è una cosa fatta è una cosa conclusa vi ricordate la storia di Lazzaro perché tra tanti miracoli di Gesù i farisei volevano uccidere proprio Lazzaro perché Lazzaro col fatto che lui era morto era rimasto nella tomba sepolto è tornato in vita aveva dimostrato la potenza di Cristo era innegabile ogni volta che loro vedevano Lazzaro di quello che Gesù era capace di fare così lo volevano fare fuori era morto e sepolto ma Gesù l'ha risorto il battesimo mostra quindi non soltanto la sepoltura come dice qua ma anche e soprattutto la risurrezione siamo stati risuscitati come? è stato Gesù che si è auto-risuscitato quando era nella tomba? no Gesù non si è auto-risuscitato era morto era incapace di tornare in vita ma è padre per la sua potenza è lo stesso avviene con noi qui è molto interessante la parola gloria molti studiosi parlano di gloria come di potenza potremmo dire la visibile la gloria è la visibile potenza e maestra di Dio nulla mostra la potenza di Dio quanto alla risurrezione nei miei testi preferiti della Bibbia sicuramente primo colinzi 15 se tu vuoi parlare con un credente del fatto in dubbio che Gesù è il Messia basta andare direttamente alla risurrezione Gesù è vivo a dimostrazione della fedeltà delle sue parole e delle sue promesse Romani 1 4 dice che Gesù è dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti Gesù ha mostrato la sua potenza la potenza delle padre tramite la risurrezione nulla mostra l'autorità di Cristo quindi più della sua risurrezione Filippesi 2 8 e 10 dice che Gesù trovato esteriormente come un uomo umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce perciò Dio lo ha sovranamente innalzato gli ha dato il nome che al di sopra e di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto terra Gesù è il re Gesù è il Signore e questo è dimostrato dalla sua risurrezione nulla mostra la nostra conversione quindi a Cristo quanto la nuova vita che abbiamo grazie a lui una persona che afferma di essere credente e poi dice sì sì ho accettato Gesù e poi la sua vita rimane quella di prima mostra che non è veramente risorta risuscitata da Dio c'è una terza osservazione qui di questo versetto 3 non soltanto siamo stati sepolti non soltanto siamo stati risuscitati per la potenza di Dio Padre ma siamo stati risuscitati per poter dice qua vivere ogni giorno per Dio ecco dice anche noi camminassimo in novità di vita la vita è di un credente è una vita trasformata secondo Corinzi 5 17 dice se uno è in Cristo è di una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco sono diventate nuove le nostre vite sono trasformate sono radicalmente diverse da quelle di prima pensate che le nostre vite trasformate spesso sono tutto il Vangelo che le persone vedranno proprio le nostre vite li porteranno a chiedere perché e allora potremo condividere con loro le parole del Vangelo se siamo uniti a Cristo nelle nostre vite invece che abbondare nel peccato come prima abbonderanno nelle nostre vite gli effetti della grazia Giovanni 13 35 dice da questo conosceranno tutti che siete i miei discevoli non da qualche bella bel discorso che potete fare ma se avete amore gli uni degli altri ok arriviamo alla quarta certezza ce la faremo oggi nel 7 5 dice perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua qual è la parola chiave di questo versetto io credo che la parola chiave sia la parola totale se siamo uniti a Cristo saremo uniti a Cristo dice qua totalmente non c'è una via di mezzo o tutto o niente siamo siamo uniti totalmente nella sua morte riconosciamo il ruolo di Gesù nella nostra salvezza Gesù ha preso il nostro posto Gesù si è sacrificato per noi avete mai conosciuto qualcuno che era morto a metà o sei morto o sei vivo non ci sono via di mezzo mi ricordo un film tanti anni fa dove la persona era morta poi ha detto beh è quasi morto non è la stessa cosa o sei morto o sei vivo ma se questo è vero il battesimo rappresenta qualcosa di ancora più forte siamo uniti dice qua totalmente nella sua vita noi parliamo molto della croce ed è giusto senza la croce tutto questo non ha senso ma non ha nemmeno senso parlare solo della croce senza parlare della vita che avviene dopo per Cristo e per noi una vita presente per la sua gloria e questo è il nostro scopo della nostra vita viviamo nel presente per la sua gloria Gesù diventa il nostro padrone il nostro signore come vedremo nelle settimane prossime le sue priorità diventano le nostre priorità i suoi piaceri diventano i nostri piaceri la sua volontà diventa la nostra volontà non soltanto questo non soltanto ci aiuta nel presente ma qui parla anche di una vita futura nella sua gloria dice che avremo una risurrezione simile alla sua o che abbiamo una risurrezione simile alla sua e per l'eternità sappiamo che noi saremo al suo servizio in questa vita ma nella vita futura dice per mille anni i credenti torneranno la chiesa tornerà per regnare con lui su questa terra e poi come abbiamo studiato mesi fa saremo trasportati nei nuovi cieli una nuova terra per la sua gloria dove per sempre saremo con lui lo serviremo saremo alla sua presenza come i suoi sudditi e i suoi figli arriviamo adesso all'ultima certezza 6 e 7 dice questo sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato infatti colui che è morto è libero dal peccato forse questo è quello che mi ha preso di più di questo messaggio di stamattina colui che è morto è libero dal peccato se siamo uniti a Cristo siamo liberati dal peccato dice qua che il vecchio uomo non c'è più è stato crocifisso è sepolto è rimasto sotto terra con Gesù per quale scopo il vecchio uomo è stato sepolto lo dice qua che non serviamo più al peccato ma a Cristo uno dei miei versetti preferiti è Efesini 2.10 che ci mostra che siamo stati salvati per grazia e che lui ha delle opere buone che ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo che dono che Dio ci dà molti di voi servite in questa chiesa e non devo fare un sondaggio per sapere che siete d'accordo con me che un conto è dire sì sono figli di Dio ma un conto è vivere come figli di Dio e vivere con un nuovo scopo alzarsi la domenica mattina per venire in chiesa per servire per amare alzarsi lunedì per servire Cristo servire gli altri nel nome di Cristo abbiamo tutto un altro scopo per la vita ora non serviamo più al peccato dice ma a Cristo i nostri corpi sono ormai strumenti di giustizia e non più di ingiustizia come prima siamo stati liberati per essere gli uomini e le donne che Dio che per Dio riflettono più chiaramente che mai l'immagine di Dio abbiamo parlato per diverse settimane del vecchio Adamo e in Cristo noi diventiamo come il nuovo Adamo Cristo nuove creature in un certo senso è tornare alle origini tornare allo scopo per cui Dio ci ha creati troppo spesso parliamo della salvezza come di un momento parliamo della grazia come di una cosa del passato ma invece non è un momento ma è una vita dedicata a Dio non è un'affermazione delle nostre bocche soltanto ma è il credo dei nostri cuori non è un peso ma è un privilegio ricordate Gesù stesso ha detto che il nostro gioco è leggero noi siamo come uccelli liberati dalla gabbia siamo stati liberati per essere quello per cui siamo stati creati la grazia che è la parola chiave di questo capitolo come probabilmente di tutto il libro dei romani la grazia opera continuamente e permanentemente in noi abbiamo visto cinque modi in cui abbiamo vittoria sul peccato per mezzare la grazia abbiamo visto questa unione abbiamo visto che se siamo uniti a Cristo siamo morti al peccato se siamo uniti a Cristo è perché siamo morti in Cristo se siamo uniti a Cristo siamo state risuscitate una nuova vita con Cristo se siamo uniti a Cristo siamo uniti a Cristo totalmente e infine abbiamo visto che se siamo uniti a Cristo siamo liberati dal peccato stamattina come voi mi sono alzato facendo scuse per il mio peccato e poi mi sono ricordato quello che abbiamo visto stamattina non sono più schiavo del peccato sono stato liberato sono libero di dire di no al peccato per voi amanti della storia sapete tutti cosa rappresenta il 25 aprile in Italia il 25 aprile 1945 i partigiani liberarono Milano dall'occupazione dei nazisti dai fascisti anche dice la storia che la popolazione civile in sorse e vaste zone dell'Italia settentrionale molte città furono liberate ma voi sapete che ancora non era finita la guerra la resa totale è arrivata solo il 3 maggio però sappiamo già che il 25 aprile perché viene festeggiato perché la vittoria era già assicurata e anche noi credenti abbiamo una liberazione molto più grande di quella Gesù ha sconfitto il peccato sulla croce e la sua risurrezione ha garantito la nostra vittoria è vero pecchiamo ancora ma non siamo più schiavi soggetti alla dittatura di questo peccato ci sono ancora battaglie da combattere ma la guerra è vinta il peccato è ancora tra di noi è ancora in noi ma non ci appartiene e soprattutto noi non gli apparteniamo rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi stai vivendo ancora come se il peccato fosse il tuo padrone o stai vivendo ogni giorno più vittoriosamente per la grazia di Dio in Cristo ho pensato molto a questo messaggio ho scoperto qualcosa proprio stamattina dopo che avevo già finito il messaggio già già pronto ho pensato una cosa che spesso noi viviamo quanti di voi sono amanti degli animali bambini avete mai visto quegli elefanti al circo qualche foto qualcosa sapete che gli elefanti quando sono piccoli li mettono con una catena e sapete cosa succede quando l'elefante cresce gli tolgono la catena ma l'elefante vive ancora come se quella catena lo controllasse avete mai pensato che spesso noi viviamo come quell'elefante viviamo come se fossimo ancora incatenati dal peccato ci facciamo scuse per il nostro peccato invece di ricordarci che siamo liberi abbiamo la libertà di dire di no non ci appartiene più quel peccato o forse stamattina ancora tu non sei credente e mi sono dimenticato volevo portare su un paio di chiavi stamattina stamattina se tu sei un non credente io non so quello che c'è nella tua vita ma quello che la parola di Dio ti sta facendo vedere stamattina è un po' come quella persona che ha le chiavi del lucchetto Dio ti sta dando queste chiavi ti dice credi in me ravveriti e sarai salvato dice nessuno che crede non potrà essere salvato chiunque crede nel Signore sarà salvato è come se ti offrisse questa chiave oggi devi solo prenderla perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato nei morti sarai salvato infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati preghiamo Signore noi sappiamo che il dardo della morte è il peccato abbiamo imparato che la forza del peccato è la legge ma Signore noi ti ringraziamo che ci dai la vittoria per mezzo del Signore Gesù Cristo grazie che siamo liberi siamo liberi per poter vivere quella vita quella vita nuova non siamo più come non dobbiamo più essere come quell'elefante che pensa ancora di essere incatenato aiutaci a vivere come persone che sono veramente libere in Cristo per la tua gloria Amen